Massimo Pallottini, commissario straordinario dell'Arsia, è presente qui all'Aquario, in Piazza Fanti, per presentare la prima fiera dell'agriturismo nel Lazio? Diciamo, questa novità segue la crescita importante che c'è stata di questo movimento, di questa forma nuova di offerta turistica, che è appunto rappresentata dall'agriturismo, che nel Lazio negli ultimi anni è cresciuto molto. In passato una serie di difficoltà anche di ordine burocratico scoraggiavano un po' il nostro mondo agricolo a proporre questa formula, che invece ha avuto così tanto successo in tante altre parti del nostro paese. Con la nuova legge che la Regione ha approvato qualche anno fa c'è stato un vero e proprio boom di questa forma di offerta turistica, tante persone che vengono da fuori amano alloggiare, anziché negli alberghi tradizionali, in campagna, stare a contatto con la natura, con le qualità dei prodotti della campagna stessa e quindi c'è stato un grande successo di questa formula. Oggi la portiamo un po' qui dentro Roma per farla conoscere di più anche ai romani, è giusto valorizzarla perché ormai è un pezzo ovviamente di nicchia, ma è una nicchia importante del settore del turismo. Credo che il Lazio, i suoi territori, siano ormai in condizione di competere con altre regioni che storicamente hanno avuto un po' la primazia in questo settore, penso alla Toscana, piuttosto magari al Trentino, dove ormai da tanti anni questo pezzo rappresenta un segmento importante. Nel Lazio sta crescendo, credo che meriti attenzione e questo abbiamo fatto oggi. Quanto dura e soprattutto sono presenti le aziende? Allora dura fino a domenica diciamo, le aziende sono proposte in forma aggregata, poi ci sono anche aziende che partecipano direttamente e soprattutto noi associamo a questa iniziativa un'altra che stiamo facendo che sarà in rete nei prossimi mesi che è un vero e proprio portale dell'agriturismo. Noi dobbiamo arrivare a far sì che il turista che vuole partecipare, vuole andare in uno di questi luoghi possa prenotare attraverso internet perché ormai tanta gente ormai sceglie l'albergo dove andare, non più tanto sulle guide ma lo sceglie proprio navigando nella rete. Senta Pallottini, nonostante quello che si dica, gli sforzi che fate, che fa l'assessorato dell'agricoltura, ci sono dei problemi comunque per l'agricoltura in atto, sia in termini di aziende, vediamo tutte le proteste dei produttori di latte, cioè voi come il problema del riconoscimento, della tracciabilità, cioè rispetto a tutto quello che fate, come vi inserite in questo meccanismo di diversificazione? Diciamo, l'agricoltura attraversa a livello mondiale un momento di grande difficoltà legato soprattutto alla tenuta dei prezzi. Il problema è che se noi consideriamo i prodotti agricoli come delle commoditi, cioè come dei prodotti indistinti, purtroppo chi comanda a quel punto non è più chi produce ma chi trasforma o chi vende e quindi l'agricoltura diventa l'anello debole della catena e questo spiega quando abbiamo il prezzo del latte che anziché crescere diminuisce, poi magari al consumatore invece gli aumenta o il prezzo dell'uva che diminuisce. Sempre l'intermediazione, un po' quello che ci guadagna più di tutti. Il sistema agricolo è un sistema, diciamo, dove le motivazioni sono diverse, si va in alcuni casi da un eccesso di offerte, in altri casi da una scarsa valorizzazione perché il sistema non è organizzato. Quello che noi cerchiamo di fare è di dare rispetto alla catena, all'intera filiera, rafforzare un po' il ruolo da una parte dell'agricoltore e dall'altra del consumatore che poi alla fine è quello che può più di altri valorizzare il prodotto. Cioè se il consumatore è informato, è consapevole, sceglie quindi il prodotto perché sa la materia prima da dove viene, conosce l'origine e quindi in questo la tracciabilità è un elemento importante, probabilmente anche l'agricoltore può averne un beneficio diretto. Vi serve un ulteriore tempo? Il lavoro che abbiamo fatto credo che è un lavoro importante, però i problemi sono anche tanti. io credo che il tempo serva per fare ancora di più questo indubbiamente. Buon lavoro. Grazie.